Buonasera, voglio per forza Napoli, voglio dire una cosa breve breve, sorteggi di Champions League, in Napoli non poteva prendere peggiore squadra, infatti mi dobbiamo prendere la più forte di 5 squadra, in Nizza, la squadra di Mario Balotelli, che ha eliminato l'Ajax, voglio precisare, quindi, in modo di cammino, guardate come la penso e la penso bene, sicuramente, se Napoli non fa le solide cappellate che fa in difesa, come sempre, si gioca, cazzimmo, l'Ajax, come si deve, non ci sta niente, perché come giochiamo non ce ne sta per nessuno, quindi, se non facciamo cappelle dietro, voglio, e stracciamo, perciò, niente paura, purtroppo, ecco, vedete, ancora una volta ci siamo, è dimostrato che la fortuna non è dalla nostra parte, che poi alla fine, parliamoci chiaro, ogni squadra non era da sottovalutare, beh, meglio ancora, abbiamo preso la più forte delle 5, non c'è problema, inizia, se non facciamo cappelle, voglio, alla tre, o niente, se non facciamo che meraviglia, se non facciamo che niente sotto il culo, ci voglio un bacione, e sempre Forza Napoli, perché tutto resta, monnezza e sicuro, ci voglio, e Forza Napoli, e salutate un like, vi raccomando, e iscrivetevi al canale, ciao, bevi, Forza Napoli. Grazie a tutti.